Sostante certe, il Marco è che provo due cose che non potremmo che non sopportare. Anzi, non poter, che possono essere utilizzati due due, a fare una cosa effettivamente meglio. E non lo dico perché non ti amo che siete bravi, ma mi affermano che stanno così. Ora voglio che noi cominciamo un attimo come abbia avuto meno questi somigliori di altri nomi, perché avevano un'occasione superiore, che mi interessa anche. La mia domanda è, c'è qualcuno che è stata spia da un gruppo l'altro? No, 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 no. Dicavo perché in realtà si ruba proprio le zone che abbiamo scusate tutto in piena della sincerità. Quindi anche quello è interessante che voi avete tratto un linguaggio abbastanza, se non la riteniamo, è abbastanza. Allora, chi vuol commentare, chi vuol spiegare una cosa, facciamo così, Quindi, commenta il secondo luogo, che cosa ha visto nel secondo capito, che cosa ha fatto la sensazione. Ma anche sul operare. O che cosa ne vuoi, che cosa possiamo avvicinare, cambiare, modificare. Ora, quello che ha detto è in piccolo ora, commentare cosa stiamo facendo gli altri. Che cosa ne ha detto, che cosa hanno messo in scena. Dai, parliamo un attimo, perché dobbiamo dire di cosa faremo insieme.